Musica Siamo cittadini di visitare il Serico Ruben nel pomeriggio di domenica anche la nave Cavour, la porta aerei e per rizzaldare quindi anche in questo modo un legame profondo ai nostri concittadini, alla nostra comunità, le forze armate, le unità della Marina Militare che stanno dando onore e prestigio al nostro paese in tutte le parti. Grazie a voi.